Ma quando ho saputo che manco la mancia gli hai dato, ritiro il cretino e lo sostituisco con... Metti pausa, metti pausa. Ma guarda che sembra che sto rispondendo un dì sì. Questa clip, questa clip, si chiama la Wesa, risponde all'accusa di Luciana Litizzetto. L'abbiamo stanato, Lucianina, Lucianina è qui. Luciana Litizzetto, premessa. Premessa. Vai, premessa. Autrice, comica, insomma, di lungo corso, la sua partnership con Fabio Fazio. E qui su Wesa Channel siamo forse i più grandi fan di Fabio Fazio e di Luciana Litizzetto. Non siamo mai riusciti a decidere se ci piaccia di più. La conduzione che sa essere tagliente, approfondita, che sa proprio mettere in difficoltà e scavare nel torbido degli ospiti di Fabio Fazio. Quasi un giornalismo d'inchiesta. Quasi un giornalismo d'inchiesta sul momento. Oppure questa comicità assolutamente mai... mai banale e che si rifiuta di fare i gol a porta vuota, ecco, mettiamola così. Comunque, c'è stata l'alluvione a Bologna. Sì. A quanto pare, gente ha continuato a ordinare su app di delivery, di food delivery, durante la pioggia intensa e la Litizzetto commenta una notizia in particolare, manda una letterina. E noi adesso sfidiamo qualsiasi cosa mostrandomela. Una foto che è diventata virale in questi giorni del rider a Bologna. Avevo l'acqua e il polpaccio, otto ore di consegna e 120 euro, nessuna mancia. Caro culo di pietra, ordinatore compulsivo che con un metro d'acqua in strada hai pensato bene di farti portare a casa la cena pronta. Pensando con volutà solo alla tua quattro stagioni, al tuo risotto tartufato e il tuo pochè. Puoi mettere in pausa. L'hai visto cosa stava succedendo? Dì già. C'è una cosa da dire che non viene considerata. Ed essendo che è vivo questa città dall'interno, da molti anni, però a differenza della Soncini mi sta bene di stare a Bologna. Ok. Come Luis Sal. Come Luis Sal che oramai possiede la città di Bologna. Come Samuele Bersani. Come Samuele Bersani che però vedrò in concerto a Padova, giusto? A breve. A breve. Come Cesare Cremonini. Che a un ristorante dove si mangiano pure bene. Come Luca Carboni. Luca Carboni di Bologna, non lo so. Una delle mie prime musica sette. Ma è importante sapere che la città di Bologna è stata colpita dall'alluvione in modo molto diversificato a seconda del territorio, a seconda della zona. Cioè ci sono state delle zone tipo zona Saffi che sono effettivamente finite nel fango. Insomma, adesso non immaginiamoci una cosa... Molti danni per chi aveva negozi o le macchine a piano terra. E cantine sotterranei, ovviamente. Ci sono parti della città, tipo dove sto io, ma è la gran parte della città che ha sì visto piovere tanto, ma che non ha visto niente. Cioè io, come ho già detto, per paradossale che possa sembrare, io se non lo leggevo sui giornali, che c'era stato un alluvino a Bologna, non lo sapevo. In parte anche perché tu non eri a Bologna, però... E sono comunque rientrato a Bologna, che c'era ancora questa roba qui, e tra dove sto io, il centro, eccetera, era semplicemente una giornata di pioggia. Quindi bisogna dire le cose come stanno. Non è che uno ordina, chiama il rider, consapevole che c'è un alluvione. Chi chiede a Guesa cosa hai ordinato la sera dell'alluvione? L'abbiamo stannato, Lucianina, Lucianina è qui. Uno ordina, magari, una normale ordinazione e poi scopre che c'era un alluvione. Non è che stiamo parlando di una cosa che ha colpito l'interezza della città. E questa cosa va detta perché si creano delle grandissime semplificazioni. Se a Bologna c'è stata l'alluvione, significa che in tutta Bologna c'è stata l'alluvione. Quindi, attenzione. Posso andare avanti? Sì. Anche Gianni Morandi sta a Bologna, comunque, ricordiamo. Scusate, scusate, scusate perché... No, dov'è, dov'è? Abbiamo trovato culo di pietra. Io, po' te, ti ha preso me, ti ha centrato in piedi. Vai. Proseguiamo. Cedendo o eri attaccato alla PlayStation come una cimice sul vetro? Non lo vedi che in Piazza Grande nuotano le trote? All'incrocio c'è noel che vige il trame? Dai, che balle! In Piazza Grande non è a Bologna. Non c'è nessuna fiera. E vabbè, dirlo a lei. Eh, scusa, adesso è colpa mia che dico la verità. Ma mi stai facendo il Grappardazzi di Bologna. Non stai a Bologna come i Grappardazzi stanno alla grammatica. Vogliono flexare una conoscenza della città che non hanno, non hanno idea di come sono andate le cose, e citano Piazza Grande perché la cita Lucio Dalla, non c'è nessuna cazzo di Piazza Grande a Bologna. E sta a Modena. Ok? Quindi, non esiste Piazza Grande a Bologna. Si vede che sei un campanilista. Sai quando l'ho capito io che tu sei un campanilista? Io sono uno di quelli che spesso si commuove quando sento l'inno nazionale. Qui l'ho capito. Qui, qui, qui ho capito tutto. Mi sono in caldone. Oddio, oddio, raga, sto male. Comunque non va bene che tu abbia quella clip, Vez. Non va assolutamente bene. Ne voglio delle altre, ne voglio delle altre. Oddio, sto male. Proseguiamo. Questa non è la battuta riuscita meglio. Della storia. Non ricordo tricicli nel vuoto. Posso qui? Boh. Ma d'altronde non è il suo. primo lavoro, questo. ...che volino che abbiano le biciclette di E.T. Che per loro sia un piacere fare un po' di acquagym. In pandemia coltivavi il grano sul balcone per fare il pane. E adesso non puoi aprirti una scatoletta di tonno. Alzarti dal divano per vedere se nel frigo c'è qualcosa da mangiare per te. È troppo. È come fare la parigi da c... Comunque, Vez. Culo di pietra. PlayStation. Scatoletta di tonno. Ti ha fatto l'identichi. Io sono un PC gamer. Non gioco più con la PlayStation. E quindi non sono io. Ho l'alibi. Cosa volevo dire? Dai che... No, qui si dà per scontato che uno abbia la scatoletta di tonno. Che non si sia alzato per andare a vedere... Magari uno gioveva un cazzo. E non sapeva che c'era l'alluvione. Cioè, diciamo le cose come stanno. È possibile, è possibile che ci fosse l'ignoranza. Ora dice polpaccio patato. Ar, ho avuto persino il triste sospetto che più che stronzo, tu fossi solo cretino. Ma quando ho saputo che manco la mancia gli hai dato, ritiro il cretino e lo sostituisco con... Metti pausa. Metti pausa. Guarda che sembra che sto rispondendo un dissi. Oramai è diventato che... Come se ce la prendesse con me. Questa clip, si chiamerà Wesa, risponde all'accusa di Luciano Anticette. Cosa volevo dire? Ma sta cosa della mancia, scusa Eugenio, ma io... Da me sta sulle palle sta gag. Anche... Anche... Che be' un pochino. Io lo so. Questa cosa che i responsabili del giusto compenso dei dipendenti debbano essere i clienti e non qualsiasi sia l'app che... Allucinante. Se le citiamo, non ci sono tutti i Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, tutte loro. Ma dovranno pagarli loro, Glovo, dovranno pagarli loro i rider. Sì, ma io ero proprio... A me dispiace molto, ma è il principio della mancia. È una cosa che secondo me è buona dell'Italia rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti. No, sì, sì. Io penso che il modello statunitense sia assolutamente svilente. Assolutamente, sì. Della dignità lavorativa dei dipendenti. Non sono d'accordo. Già si paga la spedizione, no? Certamente, sì. E poi come direbbe la Soncini, quando la Soncini diceva come era fai beneficenza, e lei rispondeva pago le tasse. Stessa cosa che... No, no, è vero, è vero. Ma poi, a parte che i prezzi si stanno alzando, sia della spedizione che delle coste di servizio. Tutte queste app all'inizio erano gratuite, adesso si prende una percentuale sempre più alta. Eh beh, ma perché... Quella è l'installazione, poi c'era quella che diceva giustamente Giorgio, l'altra volta, c'è la merdificazione. Il principio di merdificazione, però non mi ricordo com'era in inglese, ma in italiano... Leashedification. Sì, sì, quello è molto figo. Molto vero. Sì, sì, quello è piaciuto, quello è piaciuto. No, poi un'altra cosa, la butto qui, perché non so dove inserirla all'interno di questo video. Nell'app che utilizzo io, generalmente, a Padova, se piove, magari se piove un pochino, abbastanza, insomma, si fermano le consegne. Io pensavo fosse una cosa... Invece mi hanno detto però che anche sulla stessa app non è uguale in altre città, e ancora non lo fanno tutte. Però stanno cominciando ad attuare questa cosa qua. Cioè io, una volta ho provato a ordinare, non sapendo nemmeno che stesse piovendo, tra l'altro, consegne bloccate per maltempo. Eh beh, ci sarà un livello di maltempo oltre il quale le consegne... Ma anche perché poi, se le condizioni di questi lavoratori sono sotto la decenza, la colpa non è tua che hai ordinato, tua, Riccardo. Ah no, no, certo, certo, certo. Che hai ordinato durante l'alluvione. Che non l'ho fatto. Porta la pizza sotto l'uragano, non lasci nemmeno un euro di mancia, io posso solo augurarti che ti venga un cagotto, ma così fulminante, ma così fulminante che ti faccia correre al cesto con la forchetta in mano più veloce del rider in bicicletta. Forse sono 45 secondi di augurio, possiamo anche... Non è una bella cosa da augurare, perché vorrei ricordare che David Hume è morto di cagotto. Più di un anno, credo, di malattia. Erano altri tempi, oggi sarebbe guarito, però augurare il cagotto, abbiamo perso uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi per il cagotto. Ma il finale era peso, mi sembrava. Provandola, abbiamo fatto 30, facciamo 30, andiamo alla fine di sta roba. La posso velocizzare? No, avevamo già finito, se andavamo avanti. No, no, il finale è fondamentale, e ora mi rivolgo anche a te, caro rider, come Winona, portatore sano di ramen, creatura mitologica, mezzo uomo e mezza bicicletta. Hai detto che nessuno per le otto ore in cui hai lavorato sotto la pioggia ti ha ringraziato. Dio, sentite. Allora lo faccio io, lo facciamo noi. Grazie. Ah, e qui è proprio... Hanno lo stesso effetto come il solito. Vorrei neanche fare il tuo nome, ma non puoi dirlo. Siamo una società che ti traccia per sapere se la tua prosciutto e funghi arriva entro cinque minuti, ma in casi come il tuo preferisce l'anonimato per evitare grane. Ah, la superiorità... Poteva, voglio dire, quella trasmissione è in generale, no? Questi... Tutte le trasmissioni... Grazie mille Matteo. Guarda, hai capito! Togliamo sta roba, PD. Tutte le trasmissioni di questa ala hanno questo scopo, no? Di farci sentire, di far sentire quelli che ci si identificano parte dell'Italia migliore, della popolazione superiore, no? Prendersi veramente questa occasione per ringraziare il rider, no? Noi, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo. E' una delle cose più... Bisogna stare molto attenti a quello che si dice oramai in tutti i sensi, però è veramente un po' una furbatina, ecco, da un punto di vista retorico è un po' furbo. E lo trovo quel gol a porta vuota che non costa niente a nessuno, perché sono sicuro che Luciano Alitizzetto o gli autori che hanno scritto questo temino delle scuole medie, sono sicuro che non... è brutto sto testo. Lo so, lo so, però anche con questa critica così bassa, così... Sono sicuro che non abbiano mai ordinato e non abbiano mai, mai nella loro vita si siano spazientiti per un ordine che arrivava tardi. Mai. Mai. Qui c'è proprio una moralità diversa. Ehi, lei lo ha ringraziato. Lei lo ha ringraziato. Tu non gli hai nemmeno dato la mancia. Io tendenzialmente adesso, al di là delle gag, se piove... Sono due gocce che si vede appena appena, ma... No, io non ho mai... Ma a pare che io... Se piove veramente non ordino. Io l'app che uso non mi permetterebbe di farlo comunque. Anzi, anzi, non solo non ordino, ma li chiamo, li... E li ringrazio. Li ringrazio. Grazie a tutti.